Buongiorno a tutti, sono Matteo Marchesi, apicoltore biologico del Conapi. Oggi siamo qui in una postazione per la raccolta della caccia. La stagione sta andando molto bene, a parte qualche gelata primaverile che ha rovinato un po' le fioriture del ciliegio e quindi ha rallentato un po' lo sviluppo delle colonie. E nonostante questo le api stanno dando il massimo, hanno raccolto moltissimo tarassaco, si sono sviluppate bene e adesso sono pronte per la raccolta della caccia. Ogni colonia lavora come un superorganismo, il superorganismo alveare. Ogni ape lavora per il bene della comunità. Lavoratrici instancabili Ogni singola ape guarda alla società come un bene superiore. Così anche noi in questo periodo difficile dobbiamo cercare di lavorare per il bene della comunità. Così anche noi in questo periodo difficile dobbiamo cercare di lavorare per il bene della comunità.